Al quinto posto, alla 2000 lama. Alla fornisce prodotti made in Italy e anche per i quali si paga un focus fantastico nella scelta delle risorse. Anche il piccolo costo è una grande funzione di questo bellissimo affettatrice. Si apprezza la massima qualità del corpo metallico, dell'acciaio per la lama e dell'alluminio trattati al fine di resistere al contatto continuo con il cibo. Lo spessore ottimale che permette di tagliare è di circa 15 mm. Salame. 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 in questo contesto, molti lo considerano il miglior filtro dei dati, tenendo conto in particolare della vantaggiosa connessione tra costo e qualità totale dell'apparecchiatura. La lama è realizzata in acciaio inossidabile, proprio come il resto del dispositivo è realizzata in metallo per una migliore solidità complessiva e facilità di pulizia. Il diametro di 30 cm della lama consente di lavorare su salumi di medie e piccole dimensioni. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie per aver guardato il nostro canale.